Riporta un pollo in un recinto. Allora, in tutto trovate 5 recinti sulla mappa. Io qua vi inserisco una piantina con tutti i recinti. Allora, tirate qua ad esempio vicino all'albero della realtà, raccogliete un pollo, se si fa catturare naturalmente, poi andate qua nel recinto, lo lanciate nel recinto e avete completato l'incarico. Grazie a tutti.